Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code tra Firenze Sud e in Cisareggiello e tra Valdichiana e Fabro. Possibili rallentamenti invece in direzione Bologna a causa di un veicolo in fiamme tra Chiusi Chianciano e Valdichiana. In A15 invece a causa di lavori possibili rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in entrambe le direzioni. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano si segnala un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Città di Firenze si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 del 27 agosto rimarrà chiusa via De Ginori da via Taddea a via Guelfa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!